l'europa si sta avvicinando al bagno di sangue per quanto riguarda la mobilità perché con l'abbandono dei motori termici a benzina e diesel al 2035 viene condannata sicuramente ad avere fortissimi problemi di carattere sociale economico e anche ambientale mentre in cina nonostante che sia la patria dell'elettrico si sviluppa e si migliora ancora di più una tecnologia nata in europa quel motore diesel che grazie alle ricerche fatte dalla duo wain chai power e assieme alla bosch europea ha portato l'efficienza del propulsore diesel a ben oltre il 53 per cento un'efficienza che manca un veicolo elettrico dei migliori ma mai si sognerà nell'ambito della produzione complessiva delle trasformazioni dell'energia ma poi anche ford nell'ambito della produzione elettrica ha diffuso i dati ufficiali che secondo cui ogni auto elettrica prodotta dalla casa americana perde la bellezza di 132 mila dollari se questa è efficienza se questo è mercato se questa è economia di mercato dio ce ne scampi ne parliamo in questa puntata dello schiaccia sassi ma prima vi ricordo di mettere il mi piace e di condividere i contenuti con i vostri amici a tra poco dopo la sigla cari amici vicini e lontani bentornati alla nuova puntata dello schiaccia sassi da parte di stefano elena la rivoluzione della mobilità che l'unione europea guidata da franz timmermans dio nabia in gloria e soprattutto da ursola von derlein che cerca una rielezione che si fa giorno dopo giorno sempre più difficile perché lei è stata la co artefice di questo sfracello che andiamo a commentare in questa puntata lo schiaccia sassi fa sì che la mobilità in europa al 2035 sia semplicemente una chimera con l'abolizione tucur però scelta legislativa di vietare la commercializzazione solo in europa mentre nel resto del mondo rimane ancora possibile la dei motori a combustione interna benzina diesel e soprattutto anche a gas ebbene questo si sta derivando sempre più ogni giorno che passa un boomerang sociale economico e anche ambientale perché la vettura elettrica che qualche bravo comunicatore cinese ha fatto trangugiare a qualche boccalone europeo che l'ha presa per oro colato e ha deciso di dire che tutte la mobilità del 2035 doveva essere solo ed esclusivamente elettrica pesa quella pesante compresa sarà uno dei primi argomenti che il nuovo europarlamento e soprattutto la nuova commissione dovrà prendere la penna rossa e cancellare d'imperio perché imporre una scelta di questo genere qua che contro ogni che va contro ogni logica economica sociale ed ambientale è veramente una cosa assurda che oltretutto sta costando l'ira di dio anzi dollari di dio alle case che malauguratamente l'hanno interpresa senza osteggiare giustamente con la dovuta energia la decisione di un euro parla di un euro commissione che era semplicemente demagogica e da questo punto di vista la cea l'associazione di costruttori automobilistici invece che pianucolare sul fatto che l'unità in europa si danno pochi incentivi e soprattutto si installano pochi punti di ricarica dovrebbe rapidamente dare ordine ai propri associati di ritirare fuori quel propulsore diesel troppo rapidamente abbandonato e rimetterlo in fretta e furia nelle linee di produzione quel motore euro 6 che anche nel confronto con l'elettrico ancora oggi è il miglior riferimento in assoluto dal punto di vista delle emissioni dell'impatto ambientale e soprattutto per la fruibilità comune però qualsiasi tipo di utiliente della mobilità ma se andiamo ad allargare il discorso al rapporto al bilancio economico della produzione dell'auto elettrica i dati che hanno comunicato ford in questi ore dimostra come su ogni auto elettrica prodotta la casa americana perda la bellezza di 132 mila dollari praticamente per ogni auto elettrica prodotta ce ne sono potrebbe venderne tranquillamente con utile almeno altre tre o quattro il che è un'assurdità economica e soprattutto un'assurdità ambientale sociale ma poi l'europa che 127 anni fa ha dato origine al primo motore a combustione interna con accensione spontanea il motore diesel inventato dall'omolomo rudolf diesel in europa è stato sempre un po bistrattato e soprattutto dopo lo scandalo Volkswagen Audi dove per le centraline truccate è stato decisamente è stato definitivamente sepolto soprattutto a causa dell'ignominia da parte di un gruppo di dirigenti della casa appunto tedesca della Volkswagen Audi che ha voluto lucrare sul trucchetto facile della manipolazione delle centraline per evitare di fare delle modifiche di 4-500 euro per ogni auto venduta nel passaggio tra lo standard euro 5 euro 6 che dopo cosa che dopo di che gli è costata gli si è ritorto al contro con miliardi con decine di miliardi di indennizi sia ai consumatori americani e anche in parte ma molto meno del dovuto anche a quelli europei ma il problema fondamentale è che appunto il diesel che è stato troppo fretturosamente abbandonato con l'onta del diesel della truffa sulle emissioni in cina viene continuamente portato ad evoluzione e nei giorni scorsi se vi interessa approfondirlo sul nordese quotidiano abbiamo trattato ampiamente il Wenchai Power ha sviluppato in collaborazione con Bosch un diesel industriale per autotrazione del pesante che ha un'efficienza record di oltre il 35 per cento il che rende la propulsione a gasolio la più efficiente in assoluto rispetto a quella del elettrico e soprattutto non bisogna dimenticare che produrre oggi energia elettrica ha un rendimento molto basso di sicuro inferiore a quello del 53 per cento di un propulsore di diesel perché con tutte le trasformazioni che bisogna fare soprattutto se questa energia elettrica è di fonte termica si va un pochettino meglio per quanto riguarda l'eolico e il solare ma però queste non sono continuative le perdite di produzione di trasformazione e di consegna sono di gran lunga maggiore e soprattutto al giorno d'oggi il costo a kilowatt sui punti di ricarica pubblica sono così elevati che le rendono automaticamente anticompetitive rispetto a un buon vecchio caro litro di gasolio il quale il litro di gasolio è sempre disponibile si fa un pieno di 50 litri in pochi minuti e soprattutto 50 litri di gasolio pesano infinitamente meno di un pacco da 100 kilowatt di batterie che al giorno d'oggi assicura un'autonomia che è ancora la metà di quelli 50 litri di gasolio che pesano fino al 10 per cento del pacco di batterie necessario ecco da questo punto di vista la cina crede nella mobilità crede nelle varie tipologie di tecnologie e non ha abbandonato assolutamente nulla mentre l'europa lo fa bannando le tecnologie dei motori a scoppio ecco da questo punto di vista se l'europa non vuole fare un ulteriore auto da fe facendosi semplicemente male e soprattutto facendosi male per molto tempo bisogna che ban sul motori termici venga più presto ritirato e soprattutto si faccia forte di quella decisione dei ministri dell'ambiente del g7 che a torino hanno finalmente sdoganato i biocarburanti dove guarda caso l'italia con la produzione dei biocarburanti del gruppo eni è all'avanguardia e soprattutto si riesce a produrre dei carburanti a bassissimo tenore di emissioni inquinanti che possono essere utili anche già nel parco circolante attuale soprattutto quello più recente andare avanti come i paraocchi come ha fatto ursula von derlein a franzi dimmermans non porta nessuno avanti anzi porta direttamente verso il barato cosa che sarebbe opportuno evitare e da questo punto di vista speriamo semplicemente che dalle elezioni europee esca una maggioranza seria coesa e soprattutto che faccia una volta tanto gli interessi degli europei dell'industria europea della tecnologia europea della scienza europea piuttosto che quella di qualche potenza esterna cinese su tutti che è solamente interessata a entrare in forza nel mercato e distruggere i produttori storici con le solite classiche politiche di dumping di cui la cina purtroppo ci ha già nel tempo ha ammaestrato vedi su vedi una su tutte i pannelli fotovoltaici dove fino agli anni 2000 lì europa era tra i produttori leader e adesso ovviamente sono stati scomparsi a favore del 96 per cento di produzione made in china la stessa cosa rischia di essere anche per l'automotive se non si interviene rapidamente cari amici vicini lontani questa puntata lo schiacciassi va a terminare prima se lo vi ricordo di mettere il mi piace di condividere i contenuti con i vostri amici se poi volete approfondire i temi trattati in questo breve spazio vi ricordo che sul nord est quotidiano trovate molti più dati di quelli che possibili dare in questo breve spazio intanto da parte di stefano elena un saluto e un arrivederci alla prossima puntata sempre che lo vogliamo ciao grazie a tutti